nuova puntata di racconto d'arte ben ritrovati quest'oggi ci occupiamo di storia dell'arte italiana restiamo nel nostro paese parliamo di agnolo di cosimo detto il bronzino nato a monticelli di firenze il 17 novembre del 1503 e morto a firenze il 23 novembre del 1572 è stato come detto un pittore italiano che ha vissuto tutta la sua vita nella città di fire di firenze e che è stato impegnato sin dagli anni del sin dalla fine degli anni del 1530 alla corte di cosimo primo de medici fu tra i più raffinati e mirabili pittori del primo manierismo noto soprattutto per essere stato uno dei più abili incisivi ritrattisti della firenze del tardo rinascimento oltre ai molteplici ritratti tra le sue opere vi sono molti soggetti religiosi alcuni soggetti allegorici tra cui spicca in particolare quella che probabilmente la sua opera più celebrata più conosciuta al mondo e venerata che allegoria del trionfo di venere datata 1544 1545 ora alla national gallery di londra fu un allievo del pontorno da cui attinse l'essenza tecnica del proprio stile e fu egli stesso il maestro del pittore alessandro allori l'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi come potete ben vedere alle mie spalle intitolata eleonora di toledo con il figlio giovanni si tratta di una delle massime espressioni della ritrattistica rinascimentale del 500 fiorentino parliamo di un'opera che è datata 1545 1546 circa è un olio su tavola che misura 115 per 96 centimetri e si trova attualmente esposta alla galleria degli uffizi di firenze ecco qui vediamo eleonora di toledo seduta in posizione frontale leggermente rivolta a sinistra con lo sguardo diretto proprio verso l'osservatore accanto alla nobile donna sulla sinistra si trova in piedi il figlio giovanni di pochi anni mentre la donna indossa un abito riccamente decorato con un broccato ricamato alla spagnola formato da un corpetto aderente e da una rete di cordoncino dorato e delle perle che coprono le spalle le maniche sono a sbuffo e dei tagli si intravede anche una camicia bianca la decorazione damascata è particolarmente ricca copre anche la gonna sull'abito si nota il ricamo a forma di melograna stilizzata che rappresenta proprio la fertilità della donna una lunga collana di perle invece di varie dimensioni ma anche di varie sfumature avvolge con due giri la scollatura e il busto impreziosita con un pendente con diamante e una perla a forma di goccia inoltre una rete preziosa di filidoro avvolge l'acconciatura che raccoglie i capelli e altre perle invece si si vedono sulla rete che copre le spalle e la cuffia due perle a goccia formano gli orecchini e intorno alla vita è stretta una cinta dorata con pietre e con pietre una nappina di perle in basso infine per quanto riguarda lo sfondo che a prima vista sembra una parete di colore uniforme rischiata leggermente intorno al capo di eleonora la protagonista in realtà è un cielo molto scuro infatti si può cogliere in lontananza la sagoma di una tenuta di campagne che probabilmente è quella ripoggio a caiano per quanto riguarda la questione dell'ambito c'è da dire che un particolare storicamente importante ma inquietante è stato scoperto nel 1857 in occasione di una prima esumazione del corpo di eleonora che era tumulato nelle cappelle medicee ecco in quella data venne aperta la tomba venne analizzato il contenuto e l'abito con il quale fu ritrovato il suo cadavere risultò molto simile a quello dipinto dal bronzino furono inoltre ritrovate delle tracce di capelli biondi tendenti al rosso legate da una cordicella dorata proprio come si vede nel dipinto ecco questa evidenza storica fece riflettere molto i critici dell'epoca infatti portò a pensare che il dipinto fosse stato realizzato dopo la morte della nobile donna di questa esumazione però non esiste un materiale fotografico soltanto documentazione scritta quindi in realtà non è stato più di tanto possibile comprovare questi dati tra il 1945 e il 1949 però gaetano pieraccini guidò la seconda esumazione delle salme dei medici e venne studiato il corpo di eleonora e l'abito fu abbandonato in cattive condizioni nel museo del bargello di firenze ecco in seguita un restauro si è scoperto che pur presentando lo stesso colore non si trattava in realtà dell'abito raffigurato dal bronzino nel celebre ritatto attualmente comunque il tessuto è stato attentamente restaurato e si trova esposto presso la galleria del costume di firenze ovviamente per per quanto riguarda lo stile c'è da dire che è un dipinto che è presente il tipico stile del pittore dunque uno stile manierista in cui le figure sono disegnate con una grande esattezza e nitidezza dei contorni e questa caratteristica era tipica degli artisti fiorentini che prediligevano il disegno rispetto al tonalismo che invece come detto più volte era utilizzato dagli artisti rinascimentali veneziani ad esempio tintoretto e giorgione la cura nel dipingere i particolari si nota invece nella veste nei gioielli della nobile donna e non solo i dettagli indicano anche che l'abbigliamento riveste una grande importanza in quello che è un ritratto ufficiale ma anche la tridimensionalità e il realismo col quale è raffigurato sottolineano quest'uso e costume bronzino infatti fu un grande ritrattista utilizzò con grande virtuosismo le tecniche elaborate dagli artisti del 500 infatti le figure di due protagonisti in questo caso sono prive di effetti diciamo legati a un difetto sono molto levigate idealizzate il colorito della pelle le superfici dei volti assumono la consistenza di marmo avorio ecco queste caratteristiche sono tipiche di un ritratto ufficiale caratterizzato da una luce fredda quasi priva di chiaroscuro è la posizione rigida delle figure l'assenza del dato naturale per sottolineare il ruolo di sovrani è proprio mirato a questo obiettivo per quanto riguarda i colori ovviamente si tratta dell'utilizzo di due colori principali il blu del cielo il bruno nella veste della sovrana due colori che entrano in contrasto di complementarietà e quindi evidenziano la figura della donna si tratta comunque di colori forti brillanti in cui ovviamente la decorazione è valorizzata proprio dal contrasto di luminosità con il tessuto chiaro e luminoso dell'abito come abbiamo detto si tratta di figure dipinte in primo piano contro uno sfondo apparentemente uniforme ma che in realtà è un cielo oscuro con una sagoma di un artificio in lontananza e poi ovviamente si tratta di un dipinto di forma rettangolare in cui l'inquadratura verticale valorizza come di consueto come tradizionalmente la figura seduta della nobile donna era questo l'ultimo dettaglio dell'analisi di quest'opera io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di racconto d'arte tempo da davam cap fac 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 fac